Io se vado a fare spesa a me mi ci vogliono soldi, se mi devo curare a me mi ci vogliono i soldi, nessuno mi fa credito. Le bollette devono essere pagate, per venire a lavorare io uso benzina. Se ometto benzina al lavoro non ci vengo e non posso avere la mensilità di gennaio ad aprile. Questa l'accusa mossa da alcuni dipendenti sanitari di quattro strutture del territorio aretino e dal sindacato autonomo degli infermieri in Ursid. Sarebbero decine e decine i professionisti senza stipendio dal dicembre dello scorso anno. Villa Mimosa, Podere Modello, Santa Rita e RSA Maestrini, le strutture coinvolte in questa bufera. Sono oltre 100 delle quattro strutture che conosciamo qui nella zona. Abbiamo anche delle strutture che non conosciamo, quindi potrebbero potenzialmente essere anche di più. Sono tutti lavoratori che non ricevono stipendio mediamente da tre mesi, alcuni da due, ma la maggior parte non ricevono da tre mesi. Io sono madre single che ci sto, abito alla fratta, tutti i giorni faccio 60 km andata e ritorno. C'è un figlio da crescere di sei anni, poi c'è in affitto, prestiti, siamo veramente messi tutti quanti in ginocchio. Questo è un momento di crisi profonda di identità dei lavoratori. C'è più di discorso economico, che poi in realtà il motivo scatenante è quello, ma è un motivo proprio di ambiente interno, di benessere, che non si respira più all'interno delle strutture. Nell'occhio del ciclone finita la cooperativa, Gorà che da tempo si occupa della gestione di alcune strutture sanitarie nel territorio aretino. Alla nostra richiesta specifica di dire dateci una data, perché poi in fondo i lavoratori si accontentano anche di questo tipo di certezza. Ci date una data, ci dite quando queste persone possono riscuotere e non c'è stata assolutamente risposta. Per loro dicono che hanno dato diverse spiegazioni, hanno legato questa cosa alla mancanza di liquidità, dovuta alla mancanza del credito da parte delle banche. Però di fatto una cooperativa che dice di avere 30 milioni di bilancio consolidato, non avere un minimo di liquidità per liquidare delle mensilità, anche una sola mensilità volendo, ai nostri lavoratori credo che sia assolutamente inconcepibile. A breve lo stato di agitazione? A breve lo stato di agitazione faremo tutto quello che è delle possibilità del sindacato per salvaguardare i diritti di questi lavoratori. Noi chiediamo chiarezza, non è che vogliamo fare la guerra alla Gorà, perché comunque non ci dimentichiamo nemmeno che non si sputa nel piatto dove hai mangiato fino ad ora. Però a questo punto ci dai una chiarezza in modo che ognuno sa le proprie possibilità e può scegliere, dire che io questa modalità qui non ce la faccio a reggerla per me e per il mio contesto familiare. Io posso resistere, uno può dire e aspetto, però sapere a cosa andiamo incontro. È arrivata intanto anche la ferma replica della cooperativa Gorà tramite un comunicato nel quale smentisce quanto affermato dal sindacato autonomo degli infermieri. Pur non negando che ci sia un problema di liquidità e che questo comporti un ritardo anche nella corresponsione degli stipendi, precisa Gorà i dipendenti delle strutture Villa Mimosa, Podere Modello e Santa Rita hanno riscosso tre mensilità dal 1 gennaio 2016, con il pagamento nel mese di aprile nello stipendio di dicembre, mentre la tredicesima era stata regolarmente riscossa a fine 2015. Per quanto riguarda la RSA Maestrini è stato invece già corrisposto anche lo stipendio di gennaio.